Ciao a tutti. Questa volta devo parlare d'oppositore della Terra Piatta. Non ho nulla da contestare per quanto riguarda la bufala della Terra Piatta. Se non fosse che alla fine del video dice una cosa del tipo non mischiate filosofia con scienza altrimenti fai danni. Non farò il nome di questo youtuber per evitare di inimicarlo, perché sarebbe un peccato, i suoi video mi piacciono. La Terra Piatta secondo questa persona dovrebbe venire fuori da chi miscola filosofia con scienza. Questa persona non ha idea di cosa sia la filosofia, ma non è soltanto lui. C'è tanta disinformazione in giro, ci ho fatto dei video su cos'è la filosofia, non sto qui a ripeterlo. Da quanto esiste, la filosofia non viene compresa e viene denigrata in molti modi. Io non me la prendo con questa persona, perché ci può stare che uno non sappia cosa sia. Se avessi modo di parlarci glielo farei presente, il problema sorge quando una persona in generale non vuole ammettere di non sapere, di avere sbagliato e di informarsi sulle cose di cui si parla. Perché ovviamente non si può sapere tutto. Spero ovviamente che questo non sia il caso di questo youtuber che ha affermato questa cosa. Voglio credere che se per assurdo dovesse vedere questo video possa ricredersi su quello che ha detto. Ma andiamo adunque. Quello che vorrei far notare a chi crede che la filosofia sia inutile o dannosa, ricordatevi che sono stati i filosofi a parlare per primi di terra sferica. Parmenide e Pitagora furono i primi a ipotizzare la terra sferica, Aristotele ha provato per primo ad argomentare perché la terra è sferica. E non dimentichiamo anche che Aristotele ha gettato le basi del metodo scientifico che poi fu perfezionato da Galileo e Newton. Inoltre, moltissimi grandi filosofi erano anche grandi scienziati o grandi matematici, come Galileo, Newton, Leibniz, Einstein, Tügel. Queste persone mischiavano filosofia e scienza? Hanno fatto danni? Non credo proprio. Ma per completare il discorso, non dimenticatevi dell'esistenza della filosofia della scienza, che studia il metodo della scienza. Gli esempi più celebri di filosofi della scienza sono Popper e Kuhn, ma anche Einstein e Eisenberg si sono occupati di filosofia della scienza. Per voi queste sono persone che hanno danneggiato la scienza mischiandola con la filosofia? E' colpa loro se oggi abbiamo la teoria della Terra piatta? Se avete questi dubbi, io vi consiglio la lettura della struttura delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn, che è un testo semplice e piacevole da leggere, che mi ha fatto capire un sacco di cose sulla scienza e la filosofia. Per il momento è tutto, ricordatevi di disiscrivervi e di mettere un dislike, magari segnalate il video e... magari insultatemi e minacciatemi di morte. Mi raccomando. Alla prossima.